Da dove? Noi veniamo dall'Italia, però viviamo sei mesi in Egitto e sei mesi in Italia. Dove in Egitto? A Urgada. Do anche l'indirizzo se vuole. Tanti grazie. Ti piace Urgada? Sì, molto, molto. Proprio bella. Come Aswan? Beh, Aswan, per quello che abbiamo visto, che non abbiamo visto molto, piace. Troviamo un po' di più di ordine che non a Urgada. Capito? Molto diverso? Beh, molto diverso. È più verde, più verde e anche più pulita. Questa è la prima volta in Aswan? Sì, la prima volta, prima volta. E nel giardino? Il giardino è anche la prima volta, bellissimo, proprio, da ritornare. Chi sono i posti più piaciuti per voi? Dunque, i posti che sono piaciuti di più a noi sono, lo dice lei, il dam, il dam, e poi abbiamo visto l'isola Filet, e poi oggi qua. Poi domani andiamo a Abu Simbol. Ah, davvero? Sì. Vedere il sole? Che entra nel tempio. E poi faremo la crociera sul Nilo con la Daha Beia. La crociera dal Aswan al Luxor? Al Luxor, sì. Con la Daha Beia. A Beia? Grande, che è molto, molto più bella. Ah, sì. Ti piace il Nilo? Sì, bellissimo, bellissimo, proprio, è tutto bello qua. Allora, in Egitto ci sono il Nilo, l'amore? Tu? Anche tu? È bello. Il cielo? Il mangiare, il sole. Il sole, il mangiare buono. Ti piace il mangiare in Egitto? Sì, 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 sì. Come cosa? Per esempio, le zuppe, le zuppe di pomodoro, mi piacciono tanto, le zuppe di pesce, che le mangiamo a Urgada, sono buonissime, che c'è dentro tanto pesce, ci sono dentro i gamberi, i granchi, cose che in Italia è difficile trovare, insomma, che prezzi modesti, ecco. Hai visto i piramidi? Non ancora, le piramidi là no. Sì. È il primo viaggio che faccio con loro in Egitto, poi andremo anche nelle piramidi. Cairo? No, l'ho vista io le piramide. Abbiamo visto dell'aereo? Dall'aereo abbiamo visto, bellissime. Porti via le battute a me, volevo dirlo io, che l'ho vista dall'aereo. Abbiamo visto anche il Nilo, dall'aereo, bellissimo, è tutto bello. Ecco. Allora, spero che tu passi. E non aver paura a viaggiare in Egitto, perché è sicura. Cura? Sì. Molto importante. Veramente, non c'è nessun pericolo, proprio. In Italia, quando siamo partiti, i nostri amici ci hanno detto, vai in Egitto? Sì, perché? Tu matto. Perché? Cairo, pom, pom, pom. Ma no? Urgada? No. Urgada è semplice. Quieto, anche qui. Pace, pace. Allora, spero che tu passi un bello tempo in Egitto, in tutti i posti. Sicuro, sicuro, sicuro. È sempre un bel posto che vi visitare. Ottimo. Io tu vado a Abu Simbel, dopo, domani. Ci vediamo là. Ci vediamo. Sì, ok. Ok, arrivederci. Ciao. 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 Sucran. Affan. Bye. Bye. Sucran. Ciao. 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 Grazie a tutti.